Handpan o rub. Qual è la differenza? Vediamola insieme. La principale differenza sta proprio nella modalità di costruzione. Questo è uno strumento che viene martellato, lavorato con delle presse e appunto la nota funziona proprio come una pelle di un tamburo che viene tesa con le martellature e vibra. Mentre qui ogni nota è data da un intaglio fatto in modo molto particolare come lo vediamo qui su ogni nota proprio per risaltare al massimo gli armonici ma non è uno strumento accordato con il martello. E un'altra differenza sta nel sustain. Qui sentiamo che la nota dura tantissimo. Invece su un handpan le note durano molto meno. Quindi questo ci porterà anche a suonare questi due strumenti in maniera differente. Su un handpan posso suonare sia in maniera più dolce, lenta che molto ritmica. Su un rav devo dosare per evitare che tutto il suono si impasti. E tu quale preferisci tra i due? Scrivicelo nei commenti e seguici per altri video.